Una caldaia situata nel deposito di un'abitazione in via Bartolomeo Grassa a Rivara si è incendiata nella giornata di sabato 25 marzo poco prima delle 16. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Rivarolo Canavese, la protezione civile di Rivara e il vice sindaco Vincenzo Martino. Le fiamme sono state spente prima che il rogo potesse propagarsi. Fortunatamente non sono stati registrati feriti o intossicati. In corso di accertamento le cause. Grazie a tutti.